La quarta sveglia va a trattare un tema legato alla virtualità, alla rete. La rete nasce qualche tempo fa, non ieri, e non si vede perché buona parte dei discorsi, delle annotazioni e dello studio anche sull'importanza della rete per le faccende letterarie debba, per qualche ragione stranissima, partire da Facebook, cioè partire dal 2008. Il 2008 è un anno sicuramente importante, forse per ragioni anche sociali e politiche, economiche, oltre che per ragioni letterarie, però ovviamente è forse l'anno in cui più fortemente in Italia si fa sentire la presenza di Facebook, che però esisteva da qualche anno prima. Quindi non si vede perché Internet, che è un cosmo ampio, debba essere ridotto a Facebook e perché Facebook debba essere considerato solo quando entra in Italia, come se appunto autori e scrittori italiani non conoscessero non soltanto Facebook da prima del 2008, ma la stessa rete e prima ancora della rete utilizzata per siti e blog, addirittura chat e modi di comunicazione attraverso newsletter, attraverso altre forme, che precedevano addirittura i primi anni del nuovo millennio. La cosa importante è considerare che alcune testualità, alcuni materiali, alcune persone, lavoravano a stretto contatto con i nuovi mezzi di comunicazione, che mezzi non sono perché si radicano molto profondamente, molto strettamente, nella stesso pensiero e modalità di azione dell'autore di volta in volta considerato, conoscevano anche quello che precedeva il momento Internet, il momento comunque importante della rete 2.0. conoscevano ciò che c'era prima della rete, conoscevano e lavoravano per esempio con il ciclostile o con l'indipendenza data dalle riviste di carta, cartacee, che potevano essere ancora distribuite in libreria e che lavoravano molto bene a diffondere non soltanto la letteratura ma anche tanti altri versanti del sapere e della conoscenza. Quando poi arriva Internet, chiaramente queste modalità non si travasano semplicemente sulla rete, come se semplicemente si trattasse di prendere una persona che ha giocato fino a quel momento a golf, la mette a cavallo e diventa un fantino. No, probabilmente continuerà a giocare a golf stando sul cavallo, si accorgerà che la cosa non è possibile e comincerà a trottare, imparerà altre cose. Queste cose che impara fanno parte di ciò che poi retroagisce sul suo modo di cavalcare, quindi non c'è mai un mezzo che improvvisamente, semplicemente traduce ciò che c'era prima. Però la conoscenza di ciò che c'era prima per quel mezzo e per chi ci naviga è importante. Quindi c'era stata una generazione che era perfettamente cosciente di quello che il ciclo stile e la diffusione delle riviste cartacee era stata in passato. E poi arriva una generazione che proprio su questi materiali lavora. Passa il tempo e improvvisamente la internet e la comunicazione letteraria attraverso internet ha un cerchio che si chiude su un anno, su un mezzo, su una struttura e su un numero estremamente limitato e soprattutto nazionale di blog e di siti e di pagine web, di pagine facebook e di social network. Forse è opportuno che ci si renda conto di due cose, di una geografia, dell'esistenza di una geografia e dell'esistenza di una storia. La geografia è molto più ampia del contesto letterario italiano e gli autori italiani che si muovono all'interno del contesto italiano conoscono spesso, a volte, non sempre, però spesso conoscono o sono in rapporto, in contatto da prima che esistesse facebook con il contesto mondiale o una parte di questo contesto, e questo per quanto riguarda la geografia. Per quanto riguarda la storia, questi stessi autori, queste stesse non soltanto persone ma anche ensemble di autori, gruppi, diciamo coordinamenti vari, hanno contezza, spesso a volte, di cosa era la comunicazione letteraria prima e di cosa diventa e non semplicemente viene tradotta due punti uno, cioè come una cartografia o una carta che coincide con il territorio dopo su internet, hanno contezza di ciò che è stata la storia e di quello che non più la storia del passato, che però è importante conoscere, ma il presente ci dà e ci offre. Questa doppia conoscenza, questa doppia cognizione di ciò che è stato e di ciò che è non soltanto il contesto italiano, ma soprattutto il contesto mondiale o comunque delle lingue che si conoscono e la conoscenza della storia, anche del proprio contesto linguistico, fanno parte di un bagaglio che è possibile acquisire. Alcune cose sono state scritte, altre no, e quindi vanno scritte. Chi le deve scrivere se non chi si occupa di critica e di storiografia della letteratura adesso? Gli autori? Non lo so, forse gli autori hanno una visione connotata, io stesso, io per primo, tanti altri autori come me hanno una visione magari limitata, connotata, altri autori sicuramente avranno anche loro una visione limitata e connotata, non se ne rendono conto, io stesso non mi rendo conto di alcune cose, quindi ci vuole una lettura che sappia fare tesoro e della geografia e della storia così come ne ho parlato e che si avvalga di strumenti che già esistono in rete spesso per entrambe le cose, cioè per l'estensione geografica del, come si dice, dominio letterario e per la profondità della storia di questo dominio. Questi strumenti, come dicevo, esistono, chiedete e vi sarà dato, non a me personalmente, ma altrimenti cercate, perché come esiste la ricerca letteraria, così esiste anche la ricerca critica o la ricerca storiografica e un suggerimento non dura pochi mesi, dura degli anni e probabilmente deve anche avere a che fare con degli ostacoli che non sono superabili, perché una parte della rete è semplicemente scomparsa. Questo non significa che non sia esistita, che non abbia inciso e che non incida magari ancora oggi.